Dopo due anni di stop, sabato e domenica torna da piazza a piazza la camminata di 73 km organizzata dal CAI che parte da Prato, arriva a Montepiano e ritorna in città. La 36esima edizione porterà anche qualche piccola novità. Il numero dei partecipanti è chiuso a 400 per ovvi motivi e quest'anno, come è stato detto, c'è una piccola variazione sul percorso perché il ristoro di Montecuccoli non viene fatto più nel paese ma presso l'agriturismo maimone. Tappa solo di due giorni, non abbiamo fatto le tappe intermedie di un giorno. Un'organizzazione che prevede oltre 100 volontari, un servizio di pronto soccorso a cura della misericordia. Un grande ritorno per molti aspetti, quindi quello più importante e affettivo è proprio il riappropriarsi di questo bellissimo appuntamento cercato da tanti nostri concittadini e non solo, quindi insomma dopo l'edizione del 2019 purtroppo abbiamo dovuto interrompere. Quindi riprendiamo dall'edizione 36. Un'occasione anche per scoprire nuove paesaggi a ritmo lento. Un appuntamento che mette insieme lo sport, mette insieme il turismo perché negli anni ha portato veramente tante persone a conoscere la nostra città ma il nostro territorio vorrei dire perché prende proprio le cose più belle del nostro territorio. Tutto al Val di Bisenzio fino ad arrivare in primaiera a confini con l'Emilia.